siamo quasi ci siamo quasi c'è chi va a funghi e chi prova a baricetoli che stai facendo? da sotto perché hai le mani e quello il baricetolo è perfetto quello non c'è che è una ok ci siamo quasi ok calco quando vuoi eh? così direi ragione ah così? ci siamo dai ecco perfetto di paricentro vediamo è vero? capratissimo giù giù bene siamo già atterrati capratissimo ok chiudiamo perché il baricetolo è davvero capito nella baricetola non ci siamo già atterrati